Ok, vediamo con Cospaces come è possibile fare in modo tale che quando si attraversa una zona, come in questo caso, c'è la davanti, non so se si sentirà, comunque quando, a parte che il bambino dice U Enter, ma comunque se poi esco dalla zona, lui mi dice U Exit e lui mi pronuncia un altro suono. Il suono può essere sia una frase, una parola, qualunque cosa. Comunque l'importante è che possiamo fare zone diverse, con suoni diversi, con video anche che partono in maniera diversa e tutto questo lo possiamo fare attraverso una cosa abbastanza semplice, quindi uno script. Innanzitutto dobbiamo ricordarci di prendere un cuboide, questo, che è semplicemente, come vedete, un trigger, ma un trigger sostanzialmente è una scatola, un box, in cui è stato messo nel materiale che l'opacity è zero, quindi è trasparente completamente, e poi assicurate con la birra fisica, ovviamente, e che sia disponibile nei cublox, quindi nella programmazione. A questo punto vi accertate del nome di questo trigger, e ecco, l'unico trucco è che per fare ciò occorre avere uno script, questo, quindi uno script fatto in javascript, quindi praticamente si fa più e si sceglie il type script, e si deve scrivere questa cosa qua, quindi scene.getItemTrigger, che sarebbe il nome dell'oggetto, in questo caso trigger, che abbiamo cambiato, e prendendo quello bisogna dire di AddToCollisionFilter di questo oggetto alla camera, in questo modo diventa attraversabile della camera. Dopodiché, questa è diciamo la parte più complessa, ma la parte più semplice è semplicemente che quando si usa il metodo, quando la camera collide con il trigger, con questo cuboide, allora si può fare qualcosa quando entra e quando esce. Attenzione che l'oggetto, appunto, deve essere fatto in questo modo particolare. Quindi proviamo a farlo, proviamo a fare una cosa da zero, quindi questo oggetto qua lo togliamo, quindi il trigger lo spostiamo da un'altra parte, giusto per vedere che siamo in grado di costruirlo. Ok, quindi ci spostiamo un attimo lontano, e poi qua ci mettiamo nella library, ci mettiamo il nostro cuboide, quindi search, ci mettiamo cuboide, che sarebbe questo, ci mettiamo il cuboide qua, il cuboide lo alteriamo nelle dimensioni, quindi lo praticamente facciamo diventare un po' più grande, così, andiamo poi nel cuboide e gli mettiamo il materiale, abbiamo visto l'opacità a zero, ci assertiamo che la fisica sia disabilitata, il cuboide possiamo chiamarlo come preferiamo, quindi possiamo fare un... beh, sarà nelle proprietà, aspettate, quindi andiamo nel codice, e poi nell'id, ecco, nell'id di questo codice possiamo mettere quello che chiamiamo cubo, quindi cambiamo... ah, vabbè, facciamolo semplice, facciamo che ci prendiamo... using a blocks, gli prendiamo l'id, modifichiamo lo scriptino che c'è qua, invece di prendere il trigger gli mettiamo il suo nome, questo qua, che abbiamo fatto copia e incolla, con questo comandino qua, a questo punto questo cubo si comporta più o meno come l'altro, ma il programma co-block, questo invece bisogna dirgli che invece l'oggetto sarebbe cuboid, questo, che è il secondo che abbiamo preso, e quindi adesso se facciamo play, e ci avviciniamo anche qua... Vedi che funziona esattamente, e noi abbiamo, siamo partiti praticamente da zero. Questa scena in realtà l'avevo presa da una scena che ha comparso nel forum, cioè che era struttore mixata, quindi la scena iniziale l'avevo fatta, l'avevo presa da lui, ma come avete visto l'abbiamo costruita da zero e funziona. L'unica cosa che potrebbe essere interessante è poi cambiargli il nome di questo, perché lui l'ha fatto, quindi sicuramente si può fare. Ci sarà un modo... ah sì, forse è qua, si può cambiare il nome qua, si può chiamarlo Pippo, perfetto, ok, piccola cosa, Pippo. In questo modo, quando noi andiamo nel codice, invece di usare questa sigla qua, possiamo dire probabilmente il nome Pippo. Quindi qui possiamo dire che... Vedete che c'è Pippo, perché ce l'ha cambiato, quindi praticamente si chiama Pippo, e quindi quando facciamo il play, dovrebbe funzionare anche con il nome Pippo. Ecco, vedete, perfetto, quindi questo è tutto, spero che risponda, soprattutto Astrid cercava queste informazioni, ma credo che sia utile anche ad altri. Tra l'altro è bello anche il fatto di usare un personaggio per far vedere che entra o che esce. Non ho fatto vedere come si caricano i suoni, ma questo direi che è abbastanza semplice. Va bene? Saluti!